Motore! Partito! Romeo e Giulietta a mezzana 316p Che vedi il cinema? E' una questione di atti Guarda che bene, guarda, guarda Tesa Con questi momenti Tesa di sospensione Oh, ma io sto registrando Si, nonno però, per favore Va beh Azione Il senso di uno Shakespeare a mezzana Perché a mezzana? Alla fiera Perdonami Perdonami di amarti E di avertelo fatto capire Questi dialoghi sono Ma è Shakespeare, zio Il cinema nascosto Sotto, sotto la foglia Ma è Shakespeare Ma che zio, zio, maestro Voi ho detto, maestro Allora il cinema nascosto Sotto, ma fu Come un serpente Si snoda questo serpente Dove si snoda? Anche a mezzana No, no, io non voglio girare Non posso girare In queste condizioni Ma c'è troppa luce Ma non si può girare Ma che c'entra quello? Il cinema è sofferenza Voi non volete soffrire È questo allora Calma, stai! Troppa luce Michele Il cinema è la vita La Blue Hour Maledizione E cosa sarebbe La vita Senza La luce E cosa sarebbe il cinema Dunque Senza La luce Niente Michele 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 Mi riaccendi questo coso? Eh, è su Prato Città Aperta Movie È un concorso per cortovetraggi, webserie e soggetti Aperto agli autori tra i 18 e 35 anni Il tema è il confronto con l'altro e il diverso Con particolare attenzione alle periferie urbane Ma te non tu centri mia con l'età? Ma l'ho letto bene il bando? Nonno, riposati Ne facciamo un'altra Termine massimo il 30 settembre 2017 Maggiori info su www.arciprato.it